... nella scultura della nostra religione. Sì, la prima è che quando ho lasciato la Pina Conte, che nel mio insegnamento è stato nato contemporanea e io sono nata come contemporanea. Quando sono arrivata in Puglia ho dovuto dimenticarmi di questa mia vocazione contemporanea, davvero. E per me è stata una gran gioia, sì, una gran gioia di ritornare su cose perché io considero l'arte contemporanea la vera sfida. Sai, la studiosa si occupa tuttora, sono 800, però la vera sfida è sicuramente l'arte contemporanea. Di confrontarsi quotidianamente con gli artisti, per fortuna ci sono diversi anche qui stasera amici, e di vedere le loro ricerche, le loro fatiche, anche le loro, diciamo, collocazioni. Io, ripeto, per me è stata davvero la vera sfida. E poi c'è stata la donazione, della quale io ho appena accennato, di De Benedictis all'università. Io, ripeto, per me è stata davvero la vera sfida.